Cancellerò, gli escerai io. Non hai battuto nemmeno Sab-Zero. Verrà la sua ora. Round 1. Fire. Oh! 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 Round 2, fight Round 2, fight Grazie a tutti. Niente allenamento Shirai Ryu? Addestrare stranei è la passione di Sub-Zero. Takeda credeva di sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu sei di nuovo un revenant. Sono vittima della mia stessa ira. Raffredderò io la tua collera. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Round 2, fight Grazie a tutti Grazie a tutti Finish him Fatality Scorpion wins Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti